Due parole su Dylan Dogg Oldboy, siamo arrivati al numero 21, l'ultima copertina del maestro Montanari affiancato da chiaramente Paolo Baciglieri e copertina che come tutte quelle di questo mese omaggia Tex, questa copertina ripete per atmosfere, temi e composizione del quadro, quella dell'ormai storico Il Signore dell'abisso. Dal mese prossimo tra l'altro le copertine vengono curate da un disegnatore che io amo molto, Marco Nizzoli, un giorno mi deciderò dove mettere l'accento e quindi insomma c'è un po' questo cambiamento nella collana. Continua questa felice onda creativa dell'old boy perché devo dire che anche questo numero mi è piaciuto molto. Non ho guardato altri video di amici, quindi non so bene che cosa si dica nella mia minuscola bolla di questo album. Personalmente l'ho trovato molto interessante, sono due storie, una appartiene diciamo così al versante più surrealista dell'indagatore dell'incubo e con un altissimo coefficiente cinefilo come d'altra parte è nel DNA di questo personaggio. La seconda storia è invece la tipica ambrosinata detta con il massimo di rispetto e ammirazione per questo grande fumettista perché ripete un po' gli arabeschi narrativi che siamo soliti incontrare quando incontriamo appunto la firma, la penna, quando anche non il disegno di Carlo Ambrosini. Ma andiamo con ordine. Allora la prima storia si intitola Uomini o Mostri, con questo punto interrogativo posto alla fine, è stata scritta da Alessandro Russo e disegnata da Alessandro Nespolini. È una storia che per ammissione stessa degli autori è un pastiche di tematiche alleniale. Infatti l'incipit bellissimo dove praticamente assistiamo a una cena, a una cena che ha come dire anche in termini di argomenti oscilla tra un divertito e tenero cinismo e un pizzico di malinconia ma a colpirci di questa cena sono i commensali perché sono i grandi mostri horror del cinema della Universal. Quindi un Dracula che assomiglia a Bela Lugosi, di spalle vediamo la mummia, sullo sfondo l'uomo invisibile, Frankenstein l'uomo lupo, il mostro della laguna nera e poi così più vicino a noi in termini di modernità e di pura resa anagrafica lo zombie, uno zombie che non parla ma così guaisce. e l'argomento di questi zombie che sembrano, scusate l'argomento di questi mostri che sembrano comportarsi poi come fossero e come in realtà sono ma con un effetto grottesco stridente molto divertente, l'argomento è proprio il loro lavoro nel cinema e hanno un agente, questo agente si chiama Dead Rose. Ora chi ama il cinema di Woody Allen riconoscerà in questo incipit l'incipit di uno dei più bei film di Allen e cioè Broadway Danny Rose che iniziava proprio così, lì Allen interpretava un manager di comici, un impresario che veniva rievocato quasi come figura mitologica nella sua vocazione di loser da questi comici ormai in disarmo e qui succede un pochettino la stessa cosa sostituendo però i comici con i mostri della Universal. Ma la storia prosegue con un altro momento riconoscibilissimo del cinema di Woody Allen, infatti siamo in un cinema, un cinema totalmente disertato dove c'è un solo spettatore che per di più ubriaco e dorme e praticamente succede una cosa molto strana, cioè il mostro protagonista del film esce dallo schermo esattamente come capitava con i protagonisti del film nel film della rosa purpurea del Cairo. Albo stramega pieno di citazioni, Dead Rose cioè l'impresario di cui parlavamo prima che si rifà Allen ha in realtà l'aspetto di un attore alleniano cioè di Wallace Shawn che incarica Dylan di ritrovare il suo mostro scomparso ma la storia si complica ulteriormente perché c'è anche una coppia dove lui è abusante nei confronti della moglie e tra l'altro si chiama Noma Remarge, la picchia e lei assomiglia un pochino a Mia Ferrov se vogliamo come dimostra il disegno di Nespolini. E poi insomma non vado oltre perché la caccia al mostro nella città di Londra operata da Dylan e da Dead Rose è come dicevo costellata di citazioni, costellate di omaggi cinefili ma tutto molto divertente, tutto condito appunto con questo senso dell'umorismo ma anche con questa vena di malinconia molto dilandoghiana. Anche qui abbiamo a che fare con tematiche sociali che ci lasciano, che faticano lasciarci indifferente come la violenza domestica e tutto si risolve poi con il gusto del paradosso e della suspense insomma che i migliori sceneggiatori su Dylan Dog sanno instillare e Alessandro Russo qui secondo me onora proprio queste tendenze, queste correnti narrative che sempre hanno abitato il nostro indagatore dell'incubo. Si fanno più cupi i toni con la seconda storia dove tra l'altro a un certo punto compare un gatto molto strano che lo stesso Dylan dice di, così di ricordargli un po' Cagliostro, un gatto che innesca l'indagine perché una giovane donna Matilda lo porta da Dylan e gli dice che è posseduto. È una falsa pista narrativa perché poi l'albo si struttura appunto seguendo due storie, due filoli narrativi che ci vengono proposti in montaggio parallelo, uno l'indagine di Dylan, l'altro una storia di guerra e resistenza presumibilmente siamo durante la seconda guerra mondiale presumibilmente ma in Polonia insomma ecco e una storia di amore e tradimento ecco chiamiamola così che anche qui ha riferimenti espliciti dal punto di vista cinematografico e letterario se ne potrebbero citare molti, uno in particolare viene anche evocato ma cioè in questo preciso momento non me lo ricordo, comunque mi verrà in mente, però insomma il tutto questo virato secondo un'idea di horror veramente estrema perché i supplizianti che è il titolo dell'episodio hanno un aspetto veramente orribile vedersi, sono così persone deformi che qui mi viene in mente un altro bellissimo film Sentinel di Michael Wiener che chiudeva proprio con una parata di una sorta di corte dei miracoli di persone deformi che rimane impressa ecco nell'occhio dello spettatore per chi avesse visto il film, un finale abbastanza sconvolgente che probabilmente oggi non sarebbe nemmeno possibile non dico girarlo ma neanche proporlo ai finanziatori. Dicevamo il soggetto e la sceneggiatura sono di Carlo Ambrosini che diciamo corregge con una dose maggiore di cupezza secondo me la sua tendenza a creare storie molto immaginifiche, molto fantasiose. Io quando leggo il Dylan Dog di Ambrosini penso anche a un fumetto che peraltro amo tantissimo di Ambrosini che è Napoleone che i devoti della Bonelli se lo ricorderanno insomma e il gusto proprio per così anche una vena surreale ma una vena surreale gentile tutto sommato è una cosa propria di Ambrosini insomma che la troviamo su Dylan come la trovavamo in Napoleone. I disegni a mio avviso spettacolari meravigliosi sono di Giulio Camagni, forse c'è anche una qualche dose di parentela tra l'ultimo Ambrosini così terroso e sperimentale e Camagni. L'incipit è bellissimo ed è muto, è un incipit muto con una sorta di carrellata in avanti, una specie di piano sequenza o diciamo pure un'inquadratura su un drone. Ci avviciniamo sempre di più fino a entrare nelle stanze dove c'è un personaggio femminile che molto peso avrà nella vicenda che scrive. Quindi insomma l'ennesimo old boy riuscito veramente veramente notevole questo era l'old boy sappiamo che si lega spesso a come si dice a festività qui halloween viene evocato nell'albo tra l'altro il prossimo sarà un old boy assolutamente natalizio come d'altra parte la copertina di Nizzoli ci mostra. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.